Ancora buone femmine, ma questa volta di 4 anni sul miglio, anzi non partenti da 1G, ne rimangono in 8, 7 in prima, 1 in seconda fila, tutti i fonti in un periodo veramente notevole e chiaramente la più gettonata, mezzo meccanico in movimento. Buone femmine di 4 anni, miglio quarta in 8 agli ordini dello start, allineamento ancora più che buono, completata, Tarsia un po' arretrata che probabilmente rinuncia, parte piana taba da griffa o tabata, via la macchina. E l'otto a serrata per il comando con Tursio poi getta alle prese col Telli-Falu, passa Telli-Falu e la lieva di Di Vincenzo va al comando. Cavalli che completano il lancio nell'ordine del 13-6 e così alle prese sta passando subito la favorita Tussifonto, Forino dopo partenza tranquilla per non complicarsi la vita. Va subito al comando. 29-9 e Tussifonto amministra già i birili, nasino al vento rimane la Tarsia Lewis che non ha trovato posizione. Andatura tutto sommato brillante, la Font percorre i 600 in 44-9 e le cavalli affrontano la piegata con l'ennesimo ganimè da dettare i tempi, ora chiaramente a proprio quasi piacere. Mezzo miglio iniziale nell'ordine dell'1-1, 16-1 di frazione, si viaggia da 1-16 e mezzo. Per il momento nulla muta, nulla cambia, tutti accettano la leadership della netta favorita che va a timbrare il chilometro in 1-14-8 di frazione. Tussifonto, Telli-Falu, Tursio-Pegget, Bene-Tarsia ma come si suol dire si è sciroppata a largo tutta la corsa e siamo a 400 dalla conclusione. 14-4, fanno 1-32, i tre quarti di miglia, stiracchia, Telli-Falu dietro Tussifonto. Tussifonto, avalia al completamento e la curva finale, Tussifonto allunga, Telli-Falu si propone, Telli è incisiva, Tussi ha al comando, ultima a fondo di Telli-Falu. Cavalli in zona traguardo e sul traguardo le due con Telli-Falu che probabilmente pizzica l'avversario. Cresciutissima Telli-Falu, bravo sabato di Vincenzo, nonostante questa domenica pennella con questa Telli-Falu. Però vi abbiamo detto sull'ultima curva, stiracchiava un po' questa targata-Falu, totalizzatore 34,11 euro. Signori, veramente caramba, che sorpresa. 1-59-3, 1-14-6, i numeri di questa quarta del convegno. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie. 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 Grazie a tutti.